Restiamo in piedi, quanto si dice il Capitano Francesco! 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 SILENTO! 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 Grazie a tutti Si alza addirittura in piedi lo stadio Io credo che è difficile spiegare il rapporto che c'è tra questo giocatore e questa squadra È unico, è unico Assolutamente fabbio È una cosa veramente difficile da spiegare Non si è visto da nessun'altra parte Tante altre squadre hanno avuto dei grandissimi campioni che hanno fatto la storia Ma anche te con l'Inter, del Piero con la Juventus, Maldini con il mio Voglio dire, ce ne sono stati di bandiera Ma tra questa città e questo giocatore è una cosa, è come se fosse un figlio È come venire il figlio della città che entra in campo Perché è cresciuto nel settore giovanile, perché ha attifato la Roma Perché non ha mai pensato di lasciare questa squadra Magari per andare a vincere di più in altre piazze Soprattutto all'estero Ed è giusto insomma che Il proprio pubblico lo ami Totti con il suo answer Francesco! Totti! 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 Totti No! Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 La faccia vostra è di tutti quelli che ne parlano male, ma la faccia di tutti quelli che ne parlano male e che ancora lo criticano e che ancora lo criticano e che ancora lo criticano tutti quelli, ancora lo criticano tutti quelli, la faccia vostra 3 su 3. La faccia vostra è la possibilità di prendere un'organizzazione per capire una visione, per portare questo a la vita, ma di farlo in modo che le persone vogliono, invece di essere detto che hanno bisogno. Per certi aspetti chiamiamolo immortale. Totti è ancora un campione e ha veduto giocare, fa sempre piacere e non bene più il calcio. Lui secondo me vive un minuto avanti agli altri. È stata la mia vita, nel senso che la mia vita professionale è cresciuta insieme. Lui secondo me vive un minuto. Lui secondo me vive un minuto. Lui secondo me vive un minuto. Totti, troppo la magia perotti, perotti qui rimposo perotti la mette in mezzo, poi Emerson ha anticipato la mira di Sarawi, non è la deviazione, l'apertura verso Totti, 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 approfitta dell'errore di consigli e pareggia 1 a 1 dopo 36 minuti del primo tempo. Totti, 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 T con questa circostanza Francesco Francesco